Buongiorno a tutti gli ambientalini, per noi è un posto molto caro, anche molto prestigioso per noi, perché ci erano molto affezionati a questa sala. Avete appena ascoltato un amico, che si è un amico, la nostra trasmissione, adesso continuiamo con il programma. Andiamo con il scatto delle quattro stagioni, eseguiremo l'allecchio dalla prima vera, il fresco dall'estate, l'allecchio dall'autunno, però il terzo tempo, quindi la faccia, e l'inverno eseguiremo il secondo tempo, quindi l'acqua. Buon ascolto e scrivete un'altra domanda. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.